Proseguono i controlli sul caro carburante a tutela dei consumatori, fuori regola infatti un impianto di distribuzione carburante in autostrada per violazione alla disciplina sui prezzi. L'irregolarità riscontrata dalla Guardia di Finanza di Pescara nel distributore è la non corretta esposizione al pubblico dei prezzi differenziati in base a prodotti commercializzati. Nel corso degli accertamenti è stato verificato in particolare se il carburante effettivamente erogato fosse lo stesso di quello contabilizzato e pagato dagli automobilisti, se fosse stata rispettata la disciplina dei prezzi esposti e quindi la corrispondenza con quelli effettivamente praticati e anche se fossero state mischiate la benzina o il gasolio sostanze dannose per i velicoli. Gli impianti spezionati sono stati selezionati sulla base di una mirata analisi di rischio che ha tenuto conto sia delle informazioni raccolte dai finanzieri sia delle segnalazioni arrivate dai cittadini. Tutto questo appunto così come comunicato dalla Guardia di Finanza di Pescara.